ciao a tutti oggi prepareremo la stracciatella in brodo il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono prezzemolo parmigiano uova sale noce moscata pepe acqua e carne bimbi andiamo il via alla ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il parmigiano facciamo dritare per 10 secondi a velocità 8 rimaniamo un po sul fondo adesso mettiamo il sale la noce moscata il pepe e le uova facciamo mescolare per 20 secondi a velocità 3 mettiamo da parte in un contenitore il nostro composto devo aver sciacquato il boccale versiamo all'interno l'acqua e il dato di carne facciamo cuocere per 12 minuti 120 gradi velocità 1 adesso proseguiamo la cottura per due minuti a 80 gradi anti orario velocità 2 e verseremo dal foro del coperchio il nostro composto perché prendiamo il nostro composto in una cosa vuolta però guardiamo il nostro composto c'è La stracciatella è pronta andiamo a impiattare. Stracciatella in brodo, grazie e alla prossima ricetta. La stracciatella in brodo, grazie e alla prossima ricetta.